Abbiamo rinnovato proprio in questi giorni l'appello per la ricerca di possibili donatori di plasma iperimmune. Da maggio il centro trasfusionale di Pesaro si sta occupando della raccolta di plasma iperimmune e sono tantissime le persone che hanno telefonato e sono tantissime le persone che si sono recate a donare. Purtroppo però quasi solo la metà di queste persone che hanno donato plasma avevano il plasma iperimmune, ovvero un plasma che aveva un titolo di anticorpi necessario per questa cura. Noi Avis stiamo collaborando col centro trasfusionale facendo da tramite con tutte quelle persone che vogliono avere informazioni su come fare per diventare donatore. A Pesaro nel nostro comune i donatori attivi siamo 3.300, se pensiamo siamo poco più del 3% di tutta la popolazione. Tenendo conto che la popolazione che può donare, ovvero quella che ha un'età compresa dai 18 ai 65 anni, sono quasi la metà, possiamo dire che su 45.000 abitanti, 3.300 sono gli abitanti che si occupano del benessere dei cittadini di tutta la nostra città. I requisiti principali per donare il plasma iperimmune sono questi, avere un'età tra i 18 e i 60 anni e stare bene di salute. Ovviamente avere contratto il virus ed essere guariti da almeno 14 giorni. Stiamo cercando persone che si sono ammalate nel periodo di fine agosto-settembre, in modo tale da avere più possibilità di avere la percentuale di anticorpi richiesta per avere il plasma iperimmune. Purtroppo, per lo stesso motivo di anticorpi, le donne che hanno avuto almeno una volta nella vita una gravidanza o un'interruzione di gravidanza, sono impossibilitate a donare plasma iperimmune. Se vogliamo cambiare le cose, se vogliamo pensare a un futuro in una maniera un po' diversa, dobbiamo pensare prima di tutto a noi stessi, perché essere un donatore di sangue vuol dire anche pensare a noi stessi, ma soprattutto pensare anche al nostro vicino, al nostro amico, al nostro parente, allo sconosciuto, perché un indomani lo sconosciuto possiamo essere noi. Il primo passo da fare è rivolgersi all'Avis del proprio comune. Quasi tutte le Avis oggi hanno la pagina Facebook o sono sul sito o si trova telefonicamente. Se riuscite a contattarci telefonicamente sarebbe la cosa migliore. Se non riuscite, lasciate un messaggio con un numero di telefono, oppure scriveteci su WhatsApp, oppure scriveteci nella nostra pagina, vi contatteremo noi. Le nostre operatrici stanno facendo il possibile per prendere più contatti possibili. Un ringraziamento speciale va al direttore Carlo Pazzaglia, ai suoi dottori e a tutti gli infermieri dello staff del centro trasfusionale che in questo periodo stanno veramente dando il massimo.